Care concittadine, cari concittadini, il 13 giugno ci espireremo su due iniziative che vogliono cambiare in modo radicale la nostra filiera agroalimentare. La prima è l'iniziativa sull'acqua potabile e la seconda quella sui pesticidi. Concentriamoci sulla prima. I promotori dell'iniziativa chiedono che i pagamenti diretti versati dalla Confederazione ai contadini siano vincolati a condizioni più severe. Oggi gli agricoltori ricevono questo sostegno finanziario si adempiono al mandato stabilito nella Costituzione federale. Questo mandato prevede che siano garantiti l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentare e la salvaguardia del paesaggio rurale. I pagamenti diretti sono inoltre versati soltanto se la produzione avviene in modo ecologicamente sostenibile. Condizione questa che i promotori dell'iniziativa chiedono di inasprire in modo consistente. L'iniziativa prevede infatti che i contadini ricevano i finanziamenti federali soltanto se 1. si astengono dall'usare prodotti fitosanitari, 2. non sottopongono gli animali a trattamenti profilattici con antibiotici e 3. li nutrono esclusivamente con foraggio prodotto nell'azienda. Secondo i promotori dell'iniziativa la nostra acqua potabile è in pericolo perché in agricoltura si usano troppi pesticidi, troppi antibiotici e troppo liquame. Vi posso però assicurare che la nostra acqua può essere bevuta senza alcuna esitazione. La Confederazione ha già introdotto prescrizioni severe per limitare la quantità di pesticidi utilizzabili e garantire che né gli esseri umani né l'ambiente subiscano alcun danno. E queste prescrizioni vengono costantemente inasprite. La Confederazione inoltre si adopera già oggi per ridurre l'uso di antibiotici e ha ottenuto ottimi risultati. Nell'arco di un decennio l'uso è infatti stato dimezzato. Il Consiglio federale ha quindi già risposto alle richieste dei promotori dell'iniziativa. approvare l'iniziativa sull'acqua potabile sarebbe controproducente poiché la produzione di derrate alimentari da parte dell'agricoltura svizzera diminuirebbe. Per proteggere le piante da parassiti e malattie non si può infatti prescindere dai prodotti fitosanitari tanto nell'agricoltura convenzionale quanto in quella biologica. Vi è inoltre il pericolo che le aziende agricole rinuncino deliberatamente a ricevere i pagamenti diretti per aggirare le prescrizioni ambientali. Il Consiglio federale e il Parlamento proteggono già oggi la nostra acqua, la nostra salute e la nostra natura contro i fattori nocivi senza però indebolire la filiera agroalimentare. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono pertanto l'iniziativa sull'acqua potabile.